Eccoci di nuovo in studio ed oggi è con noi un altro parlamentare eletto nella circoscrizione estero. L'onorevole Marco Fedi è nato ad Ascoli Piceno nel 1958 e risiede in Australia dal 1983. È alla sua terza legislatura eletto nelle liste del PD, fa parte del Comitato Permanente Italiani nel Mondo e promozione del sistema paese della Camera. Non solo è membro della Commissione Affari Esteri e anche presidente del gruppo interparlamentare di Amicizia Italia-Australia. Gaia Onorevole, benvenuto a Community. È un piacere essere con voi, grazie per l'introduzione. È un piacere averla qui. Allora, abbiamo visto questo servizio, lei conosce Gaia Project, vero? Conosco molto bene il progetto, conosco molto bene Giovanni Butera, ho avuto occasione anche, guardando le splendide immagini che voi ci avete proposto, molte personalità della comunità di Melbo, una partita dal console generale, Marco Cerbo dalla direttrice di studio di cultura. Quindi un progetto sul quale c'è l'attenzione anche istituzionale italiana. Perché? Perché si prefigge, e lo fa dal suo inizio, questo scambio. Cioè proporre giovani artisti contemporanei italiani in Australia e giovani artisti australiani, probabilmente alcuni di questi anche di origine italiana. Poi i criteri di selezione, credo, garantiranno anche questa possibilità in Italia. Che è esattamente ciò che dovremmo riuscire a fare. Io ho avuto modo di parlarne anche in diverse occasioni, sia con l'ambasciatore australiano a Roma, che con il nostro ambasciatore Zazzo a Camberra, per cercare di stimolare queste occasioni di scambio. Farlo nel settore delle arti credo che sia particolarmente importante in questo momento, perché abbiamo molti talenti, sia giovani italiani che potrebbero presentare le loro opere, anche, secondo me, con ragioni commerciali, che non devono essere nascoste perché sono legittime. E abbiamo giovani italo-australiani e australiani la cui arte potrebbe avere un valore aggiunto in Italia che ha la ricerca, credo, anche disperata, di conoscere meglio quella parte dell'Asia Pacifico e l'Australia in particolare. E l'Australia potrebbe essere anche ponte verso l'Asia. Lo diceva molto bene Butera il fatto che questo progetto si prefigge anche poi di toccare altre sponde dell'Asia. Certo, è una sfida molto interessante, soprattutto nel campo dell'arte. Onorevole, ad ogni parlamentare noi rivolgiamo sempre la stessa domanda per conoscere meglio la realtà in cui si opera. Lei è stato eletto nella ripartizione Africa-Asia, Oceania e Antartide. Quali sono le problematiche, le esigenze, ma anche le potenzialità dei connazionali che vivono in questi continenti? Noi abbiamo negli anni cercato di stabilire alcune linee guida della nostra azione. La prima è la parità di trattamento che a nostro avviso è un obiettivo centrale cioè noi dovremmo riuscire a garantire che le comunità stabilmente residenti all'estero in Australia, come in America Latina, come in altre parti del mondo possano godere di una parità di trattamento che è sancita tra l'altro dalla Costituzione e che ha consentito ad esempio l'esercizio del logo del diritto di voto e avere una rappresentanza, una voce nel Parlamento italiano. Questo per dire che siamo consapevoli che ciò non è sufficiente perché parliamo di comunità stabilmente residenti quindi parliamo ad esempio di riaprire i termini per il riacquisto della cittadinanza che è una battaglia sulla quale abbiamo lavorato da lunghi anni e oggi sta arrivando ad un esame parlamentare vedremo in che modo saremo in grado di affrontare il tema in quella situazione. Ecco, proprio sul tema della cittadinanza ci torniamo fra qualche istante e le volevo chiedere invece di fare un po' il punto sull'attività parlamentare quali sono le proposte presentate onorevoli in questa legislatura e che riguardano i nostri connazionali all'estero? Noi stiamo lavorando ad una serie di progetti perché una proposta di legge è anche un progetto culturale ad esempio una delle proposte di legge che è riuscita a trasformarsi in legge l'unica che porta le firme di eletti all'estero la mia prima firma è quella che ha sancito la parità di trattamento a livello di rappresentanza sindacale per il personale a contratto che lavora all'estero credo che sia stato un risultato ottenuto con molto lavoro e allo stato dell'arte l'unica vera nostra azione che si è trasformata in legge dello Stato naturalmente siamo consapevoli del fatto che su molti aspetti dobbiamo cambiare il modo in cui l'Italia percepisce il tema dei migranti e questo ci collega anche al quotidiano cioè ad esempio quando noi parliamo di inserire nel curriculum scolastico lo studio dei fenomeni migratori parliamo di capire meglio l'emigrazione italiana nel mondo ciò che ha prodotto anche in termini di consistenza comunitaria ma chiediamo anche di riflettere sui nuovi flussi migratori e sull'impatto che questi hanno nelle società moderne in particolare in Italia su questo abbiamo presentato una proposta di legge quando affrontiamo il tema ad esempio dei ricercatori e di capire in che modo possiamo creare un legame tra di loro perché il fatto che giovani ricercatori professionisti mobilità professionale scienziati si muovano nel mondo infatti di per sé non è negativo il problema è che pochi ne arrivano in Italia dal mondo quindi noi non siamo un paese che attrae ricercatori attrae investimenti in vari settori della ricerca ma metterli in collegamento tra di loro creare una sorta di network che consenta a questi ricercatori di capire quello che stanno facendo i progetti sui quali stanno lavorando credo che sia fondamentale su questo abbiamo presentato una proposta di legge però occorre un cambiamento culturale ci vuole maggiore consapevolezza maggiore consapevolezza la proposta sulla cittadinanza ritorniamo su questo tema molto sentito ricordiamo che è sua la prima proposta del 2006 quali sono le modifiche che vengono chieste con più insistenza dalle comunità che lei rappresenta noi abbiamo le richieste dalle nostre comunità che sono diciamo molto chiare vorrebbero poter riaprire i termini per chi era cittadino l'ha perduta e non è stato in grado di riacquistarla nella breve diciamo opportunità normativa che è durata fino dal 2002 al 2007 e diciamo lì noi abbiamo la sensazione che in Parlamento si possa riuscire a trovare lo spazio per questa modifica molto più complesso invece riaprire l'opportunità della cittadinanza per tutti che significa sostanzialmente ridare la cittadinanza a 60 milioni di oriundi che vivono nel mondo e che spesso potrebbero anche non volerla o addirittura potrebbe creare un ostacolo al loro percorso e alle loro carriere io credo che noi dobbiamo rimanere saldamente con i piedi per terra esiste un problema diciamo storico che ci trasciniamo dietro che è quello dei nostri connazionali che quando si sono naturalizzati perché costretti a farlo hanno perduto la cittadinanza italiana non l'hanno potuta riacquistare in quel breve periodo perché le condizioni non lo hanno reso possibile dal punto di vista diciamo culturale noi oggi dovremmo consentire questa possibilità che però riguarda solo loro altro discorso ci dobbiamo ricordare che è un diritto pure ci dobbiamo ricordare che è un diritto e quello che noi stiamo facendo in Parlamento va proprio in questa direzione naturalmente dove collocare questa discussione sarebbe stato utile collocarla nella discussione molto complessa che riguarda la cittadinanza per i migranti in Italia a nostro avviso abbiamo ritenuto che forse era sbagliato tanto è vero che questa proposta di legge che è stata esaminata dalla Camera è diventata è passata ora al Senato è diventata una proposta sulla quale ora c'è una discussione molto intensa che si lega anche alla situazione attuale sulla sicurezza sul terrorismo anche i suoi colleghi eletti alla circoscrizione estero hanno detto che questo è un po' il principio cardine sul quale poi gravita tutto il problema quello della cittadinanza l'onorevole Fedi il 2016 è appena iniziato quali saranno i temi le proposte su cui si focalizzerà il suo lavoro parlamentare ma a parte l'azione diciamo che facciamo ogni giorno sulla cittadinanza come su altri temi la questione che riguarda diciamo il fisco le materie che attengono in generale alla società italiana e sui quali poi ci sono c'è un impatto che noi puntualmente verifichiamo analizziamo sugli italiani all'estero noi vorremmo riuscire a concretizzare almeno due obiettivi che sono a nostro avviso fondamentali quello di poter contare su una rete diplomatico consolare che abbia sufficienti risorse quindi lavorare affinché ad esempio alla nostra rete consolare possano arrivare le percezioni consolari cioè ciò che viene incassato dai nostri consolati rientra allo Stato quando avremo bisogno anche di risorse per poter mandare avanti nella nostra rete consolare se riuscissimo ad esempio qui lavorando su modelli già esistenti che riguardano altri ministeri a ottenere qualche risultato sarebbe estremamente positivo e poi stiamo lavorando sul tema culturale una riforma di tutto l'impianto della legge 153 71 cioè la promozione della lingua e della cultura italiana all'estero perché abbiamo negli anni consolidato una nostra presenza importante abbiamo grossi numeri ad esempio in Australia sull'insegnamento dell'italiano ma spesso non riusciamo a valorizzarlo a sufficienza quindi c'è un impegno del sottosegretario Giro dovremmo affiancare il nostro ministero degli esteri con una vera riforma che però stenta ad avviarsi quindi in questa legislatura vorremmo trasformare queste nostre proposte in atti concreti e affrontarli in Parlamento però insomma lei mi conferma che i corsi di lingua italiana hanno grande successo e sono ormai un punto di riferimento anche in Australia lo sono grazie al lavoro molti anni dei nostri enti gestori dei nostri istituti italiani di cultura che lavorano in condizioni difficili ma fanno un ottimo lavoro però sempre efficaci allora io voglio ringraziare l'onorevole Marco Fedi e ne approfitto per ricordare anche il suo sito che è www.marcofedi.it dove è possibile seguire da vicino tutta l'attività parlamentare dell'onorevole grazie ancora per essere stato ospite con noi qui a Community siamo in chiusura di puntata se invece avete dei quesiti per i nostri esperti io vi ricordo la nostra mail che è community.italia chiocciola rai.it il nostro sito lo sapete ma io lo ribadisco è www.raitalia.it al suo interno potrete rivedere tutte le puntate noi ci vediamo nella prossima puntata io vi ringrazio per essere stati con noi grazie a tutti grazie a tutti